Oggi facciamo pasta corta, perché mi stai sempre a rompere no, 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 sempre la pasta lunga, cucini, sì, pasta corta oggi facciamo rigatoni, tortiglioni, come vuoi chiamarli voi con tonnetto fresco, setano prezzemolo, cipollotti verdi peperoncino, sempre, a casa mia c'è sempre, fresco pomodori verdi e l'olive, olive del mio amico Agostino taggiasche, sott'olio allora, un po' di... ci sta un po' di prosecco ci vuole, quando uno cucina ci vuole allora, subito con l'olio allora, perché subito con l'olio? subito con la pasta, perché qua è un attimo, eh vai, butto giù allora, e... andiamo col coltello quindi, cipollotto, lo sapete, ormai ho conosciuto i miei vizi vizi e virtù, vado così, tutto lo faccio fresco, cipollotto fresco, ho trovato pure il rosso ah, vi devo dire una cosa importante, per chi è di Roma mi sono perso per anni una realtà il mercato coperto di trionfare meraviglioso vi faccio i complimenti a tutti quelli che hanno il banco stupendo, gentilissimo rapporto qualità prezzo 10 allora, andiamo avanti andiamo avanti poi, ora metto l'olio, sempre a costino sommariva vado, metto lo spicchietto d'aglio prima, come sempre piano piano, facciamo soffriggere poi prepariamo noi siamo i soliti, no? lo sapete? gambe di prezzemolo, sempre vai così e facciamo un pello solare poi, ci prepariamo qui tutti gli ingredienti che ci occorrono tra cui mi piace anche il sedano abbiamo qui il cuoricino del sedano levo le foglioline, così mi piace questo croccante del sedano buono, mmm fresco tacche, tacche, tacche e tacche ok, poi andiamo così sta andando l'aglio lo leviamo tutto abbiamo la mia pinzetta magica eccola qua metto qua, appoggio appoggio metto cipollotto, foglio a fuoco altrimenti si brucia ok paraparapah parapah poi, il sedanino tac, 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 tac bello, fresco e ci sta bene, 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 bene bene vado così vado così peperoncino fresco ta 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 daaa dobbiamo cantà dobbiamo cantà la vita è bella che volevano di più mangiamo facciamo tutto quanto godiamocela allora eaaaa il tollo ma il tollo all'ultimo mettiamo manemente lo facciamo diventare il tollo explore l'asecco prakta no anche i pomodorini adesso li taglio e mi preparo questi qua che sono pomodori verdi li mettiamo all'ultimo no? Belli, così, così olive io lo fermo qua, fuori dal fuoco strizzo bene l'olio dall'olio, sono troppo olio oggi vado che buon tasto l'olio che belle, vai cosa c'è? la pasta mi piace a noi che leggermente si piega vai qua dentro, vai, bella vai se deve insaporire bene, deve essere gustosa così ti senti l'olio è ancora più duretta la pasta, acqua, via bella, mamma mia che favola prezzemolo vado, così non è obbligatorio, se vi piace mettete lo sonno e adesso il tonno quindi abbondante così, bello mamma mia, che bontà questo è un primo e il secondo, eh la spinetta mi è sfuggita, se no vuole fregare eccolo qua e adesso lo andiamo a mettere dentro olio vai facciamo una bella girata così vedete, si sta cocendo piano piano pomodori verdi come se non ci fosse un domani vai pacca, 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 pacca guardate che bella, vieni che spettacolo ne vogliamo parlare e adesso il nostro rumore un po' di sale perché qua ci vuole volete sentire? il suono, non il rumore come ha detto un mio amico e come dica la roba e mo digli che piove, va eccolo qua guardate che robetta vieni a vedere, vieni a vedere voi tieni ta 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 userò il cucchiaio perché prende di più mamma mia roba che spettacolo, tieni prendo così posso andare così poca pasta pomodoro, tonno, olivetta che confusione ho veramente tanta confusione emozioni buonissimo un bacio al tuo Dio voglio bene che bontà non pagare lì che bontà mamma mia guarda qua vi è piaciuto questo video? certo che sì era bellissimo quindi iscrivetevi al mio canale così non vi perdete mai più un mio video e poi commentate che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti e poi i like oh e damosela mostra questi like un bacio e un abbraccio a tutti mua